In camera da letto, oltre a quello che sembrerebbe essere il bottino dei vari colpi messi a segno, nascondeva una pistola, per questo è finita in manete una giovane di origini albanesi. Nei guai, assieme a lei anche altri due connazionali, un 29enne ed una 25enne, potrebbe trattarsi di una banda dedita ai furti in abitazione in città, a rintracciare tre in pieno centro storico i poliziotti della squadra volanti della questura di Arezzo. A destare il sospetto degli agenti è stato il loro comportamento alla vista degli uomini in divisa. A quel punto è scattato il controllo dei documenti, durante il quale l'uomo ha reagito in modo decisamente poco collaborativo. Questo ha convinto la pattuglia a proseguire la perquisizione personale. Il 29enne è stato così trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una consistente somma di denaro, della quale non è riuscito a dare spiegazioni plausibili circa la sua provenienza. Sono state poi controllate le due donne, trovate in possesso di oggetti probabili proventi di furto. La più giovane inoltre è risultata essere clandestina sul territorio nazionale. Nel corso della perquisizione sono inoltre saltate fuori le chiavi di due stanze d'albergo che sono state così controllate. Lì gli agenti hanno rinvenuto, ben nascosta dentro un fustino del detersivo, una pistola semi-automatica con matricola brasa, oltre che ad altro denaro contante e gioielli in oro. Una delle due donne, alla quale era intestata la camera d'albergo nella quale è stata ritrovata l'arma da fuoco, è stata arrestata per il 29enne e invece scattata la denuncia per il porto abusivo di armi, mentre l'altra donna è stata denunciata per violazione delle norme sull'immigrazione. Tutti e tre sono indagati per ricettazione, mentre procede l'attività degli inquirenti per ricostruire i movimenti della banda.